starebbe nascendo una nuova coppia tra due grandi protagonisti di amici la segnalazione su giulia stabile e wax nuova coppia all'orizzonte tra due grandi protagonisti di amici a diffondere la notizia bomba è stata l'esperta di gossip di janira marzano che ha recentemente pubblicato una segnalazione di una sua seguace riguardante un presunto avvicinamento tra due ex allievi della scuola più famosa d'italia di chi si tratta stiamo parlando di giulia stabile e wax che hanno partecipato rispettivamente alla ventesima e alla ventiduesima edizione del programma la ballerina arrivando anche vincitrice secondo quanto testimoniato da una follower della marzano i due sarebbero stati beccati ieri sera 28 luglio all'old fashion di milano mentre ballavano insieme in maniera molto complice ecco quanto riportato in una storia instagram ciao di janira ieri sera ero all'old fashion a milano e c'erano giulia stabile la ballerina e wax di amici che ballavano insieme e sembravano molto affini sono due giorni che ci vanno insieme a quanto pare sono ben due giorni che la ballerina e il cantante si presentano insieme al locale a corredo della segnalazione poi di janira ha condiviso anche alcune foto in cui si possono vedere anche se sfocati wax e giulia insieme in questo locale milanese alla domanda della seguace che voleva sapere maggiori informazioni sulla presunta coppia l'influencer ha risposto di non sapere nulla ma di vederli molto bene insieme dunque non è chiaro se i due stiano uscendo solamente in qualità di amici o se effettivamente stia nascendo un nuovo amore